Melbourne rappresenta un severo banco prova per i freni, fattore che richiede un allestimento specifico. Ad ogni staccata, con decelerazioni di 200-250 km orari, corrisponde un innalzamento delle temperature dei dischi, con picchi di 900 gradi. Stress termici che devono essere rapidamente smaltiti con un sistema di ventilazione forzata, capace di ripristinare l'efficienza fernante per la staccata successiva. L'aria, dopo aver sottratto calore al disco, viene smaltita all'esterno delle ruote anteriori.